E' giusto pregare, supplicare anche per le nostre sofferenze. Quanti malati ci ascoltano e ci seguono anche da casa. Quante sofferenze abbiamo noi nel nostro cuore. Ecco, è giusto pregare anche per quelle. Per la guarigione, certo, come ha fatto questo centurione. Tutti i problemi che possiamo risolvere, cerchiamo di risolverli. Chiediamo al Signore che venga a curarci, a guarirci, proprio concretamente, come ha voluto Padre Pio con la costruzione di un ospedale. Ma quei problemi che non possiamo risolvere, beh, quelli forse sono venuti a risolvere noi. Sono venuti a cambiare il nostro cuore. Forse quella è la parola che il Signore ci vuole donare per crescere nell'amore. Solo chi soffre sa amare veramente. Ecco, fratelli e sorelle, la croce è una chiamata all'amore, è una chiamata alla generosità. Questo è stato l'insegnamento di Padre Pio. Sotto la croce si impara ad amare. E questo è ciò che ci ricorda questa sera. Sialo dato Gesù Cristo.